Luca Castelletti, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a chi ci ascolta. E benvenuto davvero qui nel nostro piccolo posto delle parole per condividere un libro. Lei ha curato e tradotto, il libro di Henri David Thoreau, Fiori selvatici a cura di Geo Wensner con i disegni bellissimi di Barry Moser. La pubblicazione di questo libro è della casa editrice Piano B. Luca Castelletti con questa traduzione ci rende possibile capire anche questa prospettiva, se vogliamo, anche diversa di Thoreau rispetto alla natura. Anzitutto, Luca Castelletti, lei come ha incontrato questo libro, poi in un secondo tempo curandone la traduzione? Innanzitutto, l'incontro con questo libro è stato, come dire, il culbine di un percorso e in questo devo certamente ringraziare Piano B, l'editore, per avermi accordato la fiducia, insomma, di questo lavoro importante. Mi sono già occupato di diversi autori del cosiddetto nature writing americano, quindi quegli autori che più o meno a partire dalla metà dell'Ottocento hanno iniziato a riflettere sul rapporto uomo-natura e sicuramente il nome di Thoreau non poteva che saltare fuori ad un certo punto perché è forse il più rappresentativo, se vogliamo, anche quello più conosciuto al grande pubblico. e diciamo che è forse uno degli scrittori appunto più conosciuti, ma è anche quello di più difficile, è più difficile da inquadrare perché fondamentalmente è amato, citato soprattutto e basta pensare poi quanto è stato parafrasato anche poi nel mondo del cinema ma a partire dall'attimo fuggente fino ad arrivare poi al più recente Into the Wild. Però sfugge qualsiasi etichetta proprio perché Thoreau fu tante cose, tutte peraltro a modo suo, fu classicista, poeta, un avido lettore, insegnante, agrimensore e anche conferenziere, quindi fu tantissime cose, ma non visse di scrittura innanzitutto, non gli riuscì, poi morì anche decisamente giovane, visse appena 45 anni fondamentalmente, è nato nel 1817 e è morto nel 1860, ecco questo sono per collocarlo nella linea temporale. però diciamo che il suo modo di vedere il mondo era quello di una persona sicuramente che sfuggiva a qualsiasi forma di compromesso che forse è il messaggio poi principale che si ritrova sia nell'opera più famosa che è quella appunto che generalmente si ricorda di Thoreau che è Walden, ovvero la vita nei boschi, ma che poi si può anche rincontrare appunto nei suoi sterminatissimi, nella sua produzione vastissima dei cosiddetti Geno, che sono appunto i diari. Però di Thoreau noi lo conosciamo soprattutto per il suo amore per la natura ed è un amore molto razionale, non semplicemente così un amore tanto per scrivere. Però di Thoreau è uno degli aspetti importanti, e qui esuliamo un po' da questa scrittura, ma in ogni modo entra anche per certi aspetti. Il suo scrivere civile, oserei dire anche il suo scrivere politico, quando per esempio scrive La disobbedienza civile, questo piccolo libretto straordinario, anche questo. E quindi, prego, stava dicendo? Sì, diciamo che la sua lettura della natura è in fin dei conti quello che poi lui appunto riuscì a fare di persona quando inaugurò la sua avventura di vita nei boschi, per due anni, da cui appunto l'opera appunto Walden, ovvero la vita nei boschi. Poi in realtà, come ho detto prima, lui non visse di scrittura, quindi fondamentalmente dovette camparsi in qualche altro modo e visse insomma facendo l'agrimensore, che dal suo punto di vista era un modo molto arido di leggere la natura e quindi questo andare nei boschi per lavoro, per dovere, era un po' come diceva lui, osservare la natura da dietro un velo nero, perché lui invece preferiva appunto osservare la natura per puro piacere e perdersi appunto in queste osservazioni. Però ad un certo punto queste osservazioni acquisiscono una certa sistematicità poi. Lui ha tenuto i diari per tutta la sua vita, esortato ovviamente da Emerson, che è stato insomma il suo ispiratore, il suo mentore, possiamo definirlo proprio così. Ad un certo punto Toro l'aveva anche imitato nei modi e nello stile, poi a poco a poco, negli anni e con la maturità, ha trovato appunto una sua capacità espressiva. Però i diari sono da un lato testimonianza dell'evoluzione del pensiero di Toro, ma sono anche un modo molto personale di approcciarsi al mondo della natura, che appunto come dicevo prima sfuggia a qualsiasi forma di etichetta e questo modo di approcciarsi alla natura però ad un certo punto decide razionalmente di diventare più sistematico, perché Toro voleva ad un certo punto conoscere veramente nel minimo dettaglio, in modo molto approfondito, il mondo floreale e della vegetazione della sua terra, della sua cittadina che racconcorda appunto. E qui veniamo all'incontro di Toro con le scienze botaniche. Come avvenne questo incontro? Ma l'incontro con le scienze botaniche è avvenuto in età abbastanza precoce, nel senso che Toro comunque aveva studiato botanica, l'aveva studiato con Cord Academy e poi dopo aveva anche studiato a Harvard, quindi è stato un incontro abbastanza precoce. dapprima, come dire, si era approcciato al mondo della botanica in un modo un po', se vogliamo, amatoriale, per puro piacere, e poi è in seguito ad alcuni incontri importanti che ha fatto durante il suo percorso, anche se appunto non ha mai studiato botanica, come dire, decidendo di specializzarsi in botanica, perché, ripeto, poi lui ha fatto altro nella vita fondamentalmente, però si era imposto volontariamente di acquisire una conoscenza sistematica e quindi aveva iniziato a leggere i testi che erano disponibili appunto nel suo tempo e cercando di memorizzarne sia i nomi, dapprima in volgare e poi dopo si era imposto di memorizzarne anche i nomi della nomenclatura latina scientifica, perché il suo scopo era proprio quello di riuscire a ricordare e identificare qualsiasi elemento, oggetto naturale che lo circondava. E se ci pensiamo, insomma, è oggettivamente un'impresa titanica, anche perché lui nelle sue osservazioni non escludeva nulla, perciò includeva anche piante infestanti, erbe che generalmente non venivano, perlomeno all'epoca non venivano prese in considerazione dai botanici canonici, accademici e quindi, insomma, se si imbarcò ad un certo punto della sua vita e questo avviene più o meno in corrispondenza poi del termine della pubblicazione insomma di Ed Walden, quindi dopo il 1854, che da un lato ci aveva dato fama, ma non quella fama sufficiente poi per poter vivere come scrittore o come conferenziere. E da quel momento in poi però appunto Toro affronta lo studio con una certa sistematicità e raggiungendo risultati decisamente stupefacenti, perché a detta anche di, ci sono studi che lo dimostrano, saggi che lo dimostrano, a detta appunto di botanici dell'epoca, suoi contemporanei, la conoscenza che aveva acquisito Toro era infinitamente peponda, lui riusciva a riconoscere i fiori non soltanto da ancora prima che sbocciassero, ma anche soltanto intuendo l'aroma, percorreva miglia e miglia a tre di chilometri a piedi pur di andare a vedere la stessa specie di fiore o di pianta o di albero per vedere e scoprire esattamente in quale momento dell'anno, in quale giorno, addirittura in quale ora avveniva la fioritura, oppure cadevano le foglie, oppure si voleva soffermare ad osservare le diverse sfumature di colori degli aceri rossi, degli aceri veritani in autunno, erano questi gli elementi che lui andava a cercare e in questo era diventato sicuramente, probabilmente, credo di non esagerare, quando dico che era diventato il più esperto del suo tempo, sicuramente nell'area geografica di Concord, anche perché, lo aggiungo come osservazione a margine, si potrebbe pensare di un grande amante della natura come Torot anche come un grande viaggiatore, come è avvenuto ad esempio per altri nature writers, ovvero scrittori di natura, ma in realtà per Torot non è così, nel senso che Torot ha sempre viaggiato molto poco, se si escludono alcune gite che fece con il fratello prima che morisse, in realtà lui è sempre stato nella sua amata Concord e non si è allontanato più tanto, quindi sicuramente conosceva il territorio molto molto bene. Eh sì, stando a Concord, analizzando il paesaggio d'intorno, i boschi d'intorno, conoscendo le varie piante, purché non fossero le piante di casa, per le quali lui non ha mai provato il benché minimo interesse, ma in questo libro che ci fa incontrare il diario, il journal di Torot, incontriamo le piante in un racconto veramente molto molto particolare, attraversate anche da dei disegni che sono altrettanto particolari, quelli di Barry Moser. Sì, sì, è vero. L'apparato di illustrazioni di Barry Moser sicuramente è un elemento che arricchisce questa edizione e stiamo parlando comunque di un illustratore importante, di grande fama, perlomeno negli Stati Uniti ha tra l'altro illustrato volumi, come ad esempio l'edizione di Moby Dick, e sicuramente è un esperto nel campo della botanica, quindi è un apparato fondamentale perché può aiutare sicuramente il lettore meno avvezzo a questo tipo di lettura, per orientarsi in un panorama, in un paesaggio botanico, vegetale, che è per forza di cose diverso dal nostro, per il semplice fatto che noi appunto non abbiamo certi tipi di, certe specie di piante o di fiori, che peraltro è stato, come si può intuire, anche un elemento di sfida e di difficoltà nel momento della traduzione. Ovviamente noi abbiamo cercato, per noi intendo io come traduttore, poi in secondo luogo in accordo con l'editore, abbiamo cercato di mantenere il più possibile un avvicinamento al lettore, quindi abbiamo cercato di trovare sempre una nomenclatura che fosse italiana, scegliendo poi la nomenclatura esclusivamente latina, laddove non ci fossero dei corrispondenti, perché può succedere che non ci siano dei corrispondenti, per esempio c'è il fatto che non esistono alcune specie di fiori di piante qua sul territorio europeo. E questo ovviamente ha allungato anche il tempo di traduzione, perché qui c'è una ricerca, una comparazione, un andare a controllare da un punto di vista anche scientifico con gli stessi nomi, le stesse piante, Luca Castelletti. Certo, certamente, e lo dico senza alcun tipo di vergogna, io non sono in realtà un esperto di botanica, quindi ho dovuto, come fanno i traduttori… Hai dovuto diventarlo, suo malgrado, quindi adesso lei è un espertissimo. Non mi definirei ancora un espertissimo, non ci mancherebbe, sei ben lontani dall'essere espertissimo. Vabbè, però quando entra in un bosco vede delle felci è come non ricordare le parole di Torò, per esempio, no? Oppure i campi di patate con le piante d'ambrosia, tanto per ricordare qualcos'altro. Diciamo che forse, ma questo per come sono più caratterialmente, magari tendo a ricordare più le pennellate di poesia che vedeva Torò nella natura, perché ricordare magari nello specifico il nome botanico di una particolare pianta, perché poi è anche questo, secondo me, il valore aggiunto del volume. Nel senso che, da un lato, sicuramente può essere letto esclusivamente come un test di letteratura botanica. Ma non solo, ma non solo. Ma soprattutto, esatto, sarebbe limitante definirlo così. Da un lato potrebbe essere inteso come questo, ma in realtà non è questo, è molto di più. E questo, infatti, ci collega poi con il tema fondamentalmente poi del, se possiamo dire, della spiritualità che si può andare a vedere tra le righe di questi giornali. Innanzitutto, la produzione dei giornali è immensa, quindi bisogna dire che questa è una selezione, così come ne sono state fatte tante negli anni. Non ce ne sono tantissime, devo dire, perché innanzitutto i geno sono tantissimi. Torò, alla sua morte, ci ha lasciato più di 33 tacquini che sono stati poi raccolti in 12 volumi, quindi non esiste attualmente l'opera omnia dei geno, dei diari di Torò pubblicati. Quindi negli anni sono sempre state fatte delle selezioni che si sono soffermate su alcuni temi nello specifico. Adesso non per forza per citare Piano B, però ad esempio Piano B qualche anno fa aveva pubblicato una selezione dedicata in particolar modo alle specie volati, dagli uccelli, che era a cura di Stefano Paolucci, un titolo secondo me molto interessante, Tra cielo e terra. Ma poi ancora più recentemente era stata pubblicata un'altra selezione che descriveva alcuni aspetti della vita di Torò dal titolo Io cammino da solo, sempre per opera di Piano B. E negli anni se ne contano ancora altre, però, come dicevo, ci si concentra poi su dei temi. Questo nello specifico, perché parliamo di fiori selvatici, perché appunto l'intento di chi ha curato quest'edizione era quello di andare a ricostruire una sorta di... È un'ampia selezione, ecco. Benché rappresenti una minima parte, come ho già detto, dell'immensa produzione dei Giono, tra quelli che sono gli scritti più evocativi su fiori e piante che Torò osservava quotidianamente. Oggi è il 30 agosto, Luca Castelletti. Il 30 agosto, ci sono diverse notazioni in questo diario, relativa al 30 agosto, ma per stare proprio nel giorno di oggi. Il cardo dei pascoli, sebbene non sia più nel pieno rigoglio, è ancora alquanto diffuso e quasi ogni fiore, ossia il cardo ha uno o più bombi che si arrampicano sulla sua massa di infiorescenze. Una di queste api, che io disturbo con la mia presenza, ha molto da fare prima di potersi alzare dall'erba e spiccare il volo a fatica, ma senza sollevarsi troppo da terra come fosse, eccessivamente carica. Ora che i fiori sono più rari, quasi tutti, di qualsiasi specie siano, sono circondati da api o farfalle. E le api hanno rappresentato un elemento di grande attenzione, perché poco più in là, quando diserta sulla parola paesaggio, e lui diserta e si chiede su come strarre il miele dal fiore del mondo. Ecco, qui entra da una parte la scienza nel rispetto molto critico e rigido nei confronti della descrizione delle piante, ma non può non entrare anche nella dimensione poetica e spirituale. Esattamente, esattamente così. Sono proprio questi squarci che lui riesce a creare ogni tanto da osservazioni in sola apparenza meramente botaniche che poi illuminano tutta la lettura di questo volume, perché appunto questo osservare la natura nel suo cambiare attraverso le stagioni, perché è così che è impostato il volume, cioè segue un andamento cronologico solare, cioè segue l'andamento appunto di un anno solare, quindi noi partiamo, il libro si apre con il mese di marzo, quindi con il freddo ancora con le nevi che coprono le praterie e poi dopo arriviamo a chiudere l'anno intero, quindi è un percorso come dire di avvicinamento al caldo e alla bella stagione a partire appunto dalle prime nevi che si sciolgono. però appunto questo catturare dei fenomeni concreti in realtà può essere inteso come un modo per dominare il tempo, dominarlo nel senso di andare a cogliere la bellezza che c'è anche nella ripetizione delle cose. Toro diceva che la bellezza vive in rima e questo suo osservare periodicamente il fiorire di un albero o di una particolare specie di fiore era sicuramente non va interpretata come una stanchezza o una pigrizia intellettuale, però sicuramente non sarebbe stata quella cosa lì anche perché stiamo parlando di una persona che non avrebbe mai letto un libro due volte, non avrebbe mai ripetuto un concetto, quindi questo voler andare a registrare ripetitivamente le cose sicuramente ha un altro significato nella sua opera e quindi secondo me e secondo alcune teorie appunto di interpretazione questa cura del particolare con cui Toro appunto cerca di mettere nei suoi scritti è una sorta di tentativo di andare a trovare una composizione organica e armonica laddove c'è un apparente informità della realtà naturale quindi è un modo per fermare il tempo per dare armonia a un qualcosa appunto che di per sé non ha forma come la realtà naturale e se vogliamo possiamo anche leggerlo in un altro modo ovvero che questa ripetitività che segue appunto l'andamento solare il calendario è una sorta di liturgia naturale se mi potete passare l'espressione beninteso Toro era era laico quindi non c'è nessun riferimento religioso però questa forma di perfezionamento e di ascesi che si prolunga nel tempo un anno uguale all'altro eppure un anno che sembra un poco più in alto dell'altro come una sorta di insieme di successive tappe obbligate di un approfondimento spirituale e quindi questo secondo me è uno degli elementi che aggiungono spiritualità in questi scritti che sono solo un'apparenza appunto dell'osservazione botanica cioè una sorta di perfezionamento e di ascesi nella nella ripetitività e nella e nell'approfondimento del dettaglio dei fenomeni naturali e poi non solo perché ovviamente c'è un altro tema importante che può essere considerato una forma di spiritualità che è quello anche della precognizione il tema della precognizione che tra l'altro non è nuovo in Toro perché si ritrova anche in Walden però fondamentalmente quando parlo di precognizioni intendo il fatto che c'è un passaggio ad esempio in cui lui Toro coglie un ranuncolo un fiore di ranuncolo e vi trova al suo interno un bocciolo bianco pronto ad aprirsi e lui dice proprio queste parole se ne sta assopito pazientemente così carico di fiducia consapevole di una primavera che il mondo non ha mai visto è come una promessa una profezia e la sua forma ricorda un tempo d'oriente sovrassato da una cupola a forma di bocciolo e quindi è proprio questa forma di precognizione uno stratagemma possiamo dire anche in questo modo per precorrere la stagione bella a venire e quindi in ultima analisi anche di sopravvivere ai mesi più freddi sopravvivere all'inverno e quindi è una è una predisposizione fiduciosa che anticipa le stagioni e che sono molto legate perché questo tema ovviamente è molto legato alla capacità anche di osservazione ovvero se io precorro sono anche in grado di osservare meglio cioè riesco a scorgere ad esempio dei fiori rari solo laddove sono preparato per farlo in oltre parole quando io sono pronto a precorrerlo e e quindi attraversare questi scritti è è un po' come camminare per prati per campi per boschi attraversare la natura e entrando in una sorta di simbiotico rispetto con essa e ammirandone i dettagli e il verbo camminare è un verbo che si attaglia straordinariamente perché proprio conseguendo le parole di Luca Castelletti andiamo a scoprire quella bella definizione a cui facevo riferimento poco fa la liturgia della natura perché veramente entra in quella parola Fiori selvatici è il libro che abbiamo raccontato grazie a Luca Castelletti che lo ha curato e tradotto il libro di Henry David Thurot a cura di Georg Wensner con i disegni di Barry Moser la pubblicazione della casetrice Piano B ma prima di salutarci Luca Castelletti qual è il libro che fa compagnia in questi giorni? Il mio libro? Sì cosa sta leggendo? È una domanda difficile perché in realtà non ne sto leggendo solo uno però visto che abbiamo parlato di di Cammini sto leggendo un libro di un'autrice inglese che si chiama Rayna Wynne di Sentiero del Sale pubblicato da Feltrinelli e parla di una di una coppia di inglesi che hanno perso per uno sfortunato evento legale una sfortunata vicenda imprenditoriale hanno perso tutto quello che avevano la loro casa in campagna e decidono di mettersi in cammino per così come atto di sopravvivenza e come atto di riscoperta anche di che cosa si può fare poi nel dopo forse Rayna Wynne aveva letto anche qualcosa di Toro a proposito del camminare è vero potrebbe potrebbe darsi potremmo potremmo pensarlo una cosa del genere intanto grazie davvero c'è tanto in questo momento in ambito editoriale c'è tanto sul camminare forse c'è veramente tanto ma dovremmo camminare molto più lentamente anche nella nella presenza editoriale ma camminare in maniera più con un cuore intelligente ecco visto che andiamo a parlare di spiritualità il cuore intelligente ci porta molto indietro nel tempo grazie davvero Luca Castelletti e buona giornata grazie a voi grazie per questo spazio buona giornata